Benissimo, otto minuti sono un tempo per noi sufficiente per riordinare quelle poche idee che abbiamo Sono poche, anche abbastanza confuse E siamo anche senza acqua No, l'acqua tu ce l'hai E' un po' strano perché in una piscina essere senza acqua... Io ce l'ho la mia Abbey Well Io non ce l'ho Tu dici, Rick, che quest'acqua non è bevibile? No, no, ma adesso arrivano le simpatiche signorine qua Sapessi quante ce ne sono, caro Rick, di signorine qui? Siamo circondati Siamo circondate signorine che ci portano acqua, ci portano i fogli Sono tutte molto carine e sorridenti Rick, ti posso dire una cosa proprio? Ma ti posso dire una cosa così proprio? Ho visto una quantità di fregna olimpica in questi 15 giorni Una roba da sentirsi male